E' stata scelta Bitonto per alcune scene della nuova fiction Il Medico della Mala, che andrà in onda probabilmente nel 2021 su Rai 1. Nei giorni scorsi ci sono state le riprese all'interno ed esterno del Teatro Traetta, in un palazzo storico di fronte alla Chiesa del Purgatorio e in un'attività commerciale nelle vicinanze. Tra i protagonisti della fiction, la bitontina Bianca Guaccero, che ha scatenato la curiosità dei suoi fan annunciando la sua partecipazione a questo nuovo progetto con un post sul suo profilo Instagram. Interpreterà una giovane di nome Rosa. La affiancheranno altri attori famosi, tra cui Marco Bocci, Violante Placi, Doloretta Goggi, Fortunato Cervlino, Ignazio Liva e Michele Venitucci. Poche notizie sono state diffuse sulla fiction. diretta dalla regista Cinzia Torrini, che tutti conoscono per Elisa di Rivombrosa, ma che in Rai è reduce dall'enorme successo di pezzi unici. È stata prodotta da Casanova Multimedia e ha come capo sceneggiatore Andrea Vallagussa.